Pensi che noi due ci siamo detti sempre tutto? Segreti? Misteri? Noi due siamo tutto un mistero? Di che parlavo quando ti ho vista la prima volta? Del concetto di infinito nella storia dell'astronomia? Mi chiedo che stai facendo in questo momento? Lo so che sei arrabbiata con me perché sono sparito. Qui è come essere lì, solo che non posso toccarti. Perché non te l'ho detto? Devi averlo architettato, un sistema per farmi ricollegare a te! Mi sembrava una cosa che non doveva far parte di noi. Non puoi lasciarmi in un labirinto senza via d'uscita. Il mio errore è stato non averti incontrata prima. Ti aspetterò sempre.